Zero contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore per Cilento e Vallo di Viano. Questo è l'importante dato che fuoriesce dopo la giornata di ieri e per diverse comunità ci sono state anche altre buone notizie. Infatti nel Cilento sono stati registrati vari tamponi negativi, partendo da Agropoli che dopo una nuova situazione di timore dopo gli ultimi due contagi, registra quattro tamponi negativi su cinque in attesa relativi ai contatti avuti dalla paziente oncologica e dalla cittadina agropolese, compagna dell'uomo di Cava dei Tirreni. Si attende ora il risultato solo del quinto e ultimo tampone. Per chiudere questa volta si spera definitivamente la questione casi di covid-19 in città. Tampone negativo anche a Monte Corice, dove era stata sottoposta agli esami la compagna del farmacista del paese cilentano, ma che lavora a Battipaia, dove pare essere stato contagiato, e risultati negativi dei tamponi anche per i contatti del terzo caso di Casalvelino, un giovane rientrato dall'estero. Il bilancio del Cilento rimane invariato con 23 casi ad Agropoli, compresi tre decessi e tre guarigioni, quattro a Vallo della Lucania, tre a Casalvelino, due a Sessa Cilento e Vibonati, uno a Laurino, San Mauro Labrucca, Capaccio Pestum e Monte Corice. Nel Vallo di Diano, ieri, giornata positiva, che non vede nuovi casi di covid-19 nel comprensorio, anche qui il bilancio non cambia, con 151 contagi e 15 decessi. Grazie a tutti.